In campo al Trellebro Grow Show siamo con Massey Ferguson, Massey Ferguson è presente in collaborazione con il Trellebro a questo evento con tre macchine in campo e tre macchine in esposizione statica. La macchina che sta passando dietro di me adesso è il top di gamma Massey Ferguson, è il 400 cavalli MF 8737 che appunto rappresenta il massimo di potenza per quanto riguarda la produzione Massey Ferguson. Le macchine che abbiamo utilizzato oggi in campo sono due 8737 che sono state messe in comparazione con pressioni di gomme diverse per valutarne prestazioni e consumi e un 6.613 che è un riferimento sul mercato nella gamma dei quattro cilindri. In anteprima per il mercato italiano abbiamo ricevuto il primo modello della serie 7007, è visibile sotto il nostro padiglione e è un 7726 Dynasay, è il top di gamma in questo caso della serie 7007 e fa da vetrina con 5.612 e 6.613 sempre in esposizione statica. Grazie per la visione!